Salve bella gente con Master Up e benvenuti in questo nuovo video di Piante Contro Zombie Parte 2 Cos'è questo livello in cui ti è arrivato? È arrivato la punta agenziale? Meglio se ne si è portato bene Ah si questa bella 3 milioni Oddio No ma come? Ma perché non le becca? Dai su devi beccarele però Combo per 3 BAM 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 Combo per 5 BAM 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 Come per 8 addirittura ma il problema è che sono trattamente a caricarsi dai vuoto gingifogli non male fantastico è il loro finale raga dovete così oddio dai caricatevi sti consulenti che è l'ultimo dai caricatevi ok 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 per fortuna dai caricatevi ecco ecco un caricamento infinito no no coconut no 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 stanno avvicinando dai soli servite dai vedate i soli io ho pianto le accudete non vi date i soli ragazzi fra un po' dopo vi dirò anche quanto è che stai donando il video Marco dopo lo hai detto dopo lo hai detto te si vabbè ragazzi comunque vi volevo dire che fra un po' potete andare sul mio canale e guardare il video non c'è non c'è un canale non c'è un canale se lo siete un canale adesso ho chiesto a prendere i film sociali adesso ho chiesto a prendere i film sociali ma vè che non c'è un canale deve avere almeno 14 anni no è nei tredici vabbè ho terminato tutto cosa mi sti mi sti mi sti qualcosa mi sti già un po' perso io un nuovo saldo basso perchè perchè io spero che questo episodio di piano contro zombie parte 2 sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao